Ben tornati con i nostri caffè con il comune di Poggio Accaiano, benvenuta all'assessore all'istruzione Patrizia Cataldi, caffè direttamente dal palazzo comunale e parliamo con l'assessore di uno sportello rivolto a giovani, l'Oriente Giovani di che cosa si tratta? Buongiorno a tutti, l'Oriente Giovani avevamo nella scorsa puntata anticipato che avremmo avuto questo sportello Oriente Giovani che è partito e sta continuando i suoi appuntamenti sia dal vivo con l'organizzazione di eventi mirati proprio per l'orientamento giovanile che sia orientamento dopo la scuola media, orientamento dopo le scuole superiori di secondo grado oppure orientamento lavorativo. Ora abbiamo intenzione nella seconda parte quindi dell'anno scolastico verso il finale diciamo di organizzare proprio degli incontri per le scelte universitarie invitando sia professori, personale addetto proprio all'orientamento universitario e altri personaggi che possono illustrare quelle che sono le prospettive del mondo del lavoro. Tra aprile e maggio abbiamo anche intenzione di aprire lo sportello fisicamente con una persona che raccoglie quelle che possono essere le esigenze anche dei ragazzi o delle famiglie che naturalmente necessitano di chiarimenti sia per i propri figli sia per loro stessi. L'orientamento giovani è diviso in due fasce d'età una 13 più e una 18 più e trovano sul sito tutte le indicazioni di cui necessitano. Un aiuto ai ragazzi e alle famiglie per orientarsi nei percorsi di studio nei percorsi di lavoro però voi fate anche tante altre iniziative di formazione. Sì formazione per i giovani perché abbiamo puntato sui giovani. I giovani come dico sempre in tutti i nostri incontri sono il nostro futuro ed è a loro che dobbiamo pensare e su di loro che dobbiamo investire e per questo oltre naturalmente a un'attività di orientamento che serve naturalmente per costruire il loro futuro come si intitola appunto la serie di iniziative dedicate a loro però ecco accanto a questo abbiamo anche organizzato e continuiamo ad organizzare degli eventi di formazione culturale e quindi abbiamo organizzato un evento su Calvino, un evento sulle figure femminili dei promessi sposi e non sono mancate naturalmente le giornate in memoria di purtroppo eventi tragici che hanno segnato la nostra storia come il giorno della memoria, la giornata delle foibe ed è per i giovani anche più piccoli ma anche per i giovani di tutte le età che abbiamo organizzato proprio degli incontri formativi perché la memoria è strettamente legata all'impegno e l'ultimo proprio avvenuto la scorsa settimana in occasione della giornata in memoria delle vittime innocenti della mafia. E poi ci sono due viaggi, uno ad aprile e uno a maggio. Esatto, allora i due viaggi parto da quello di maggio perché è strettamente collegato a quello di cui stavo parlando il giorno della memoria è stato organizzato naturalmente in collaborazione con la scuola media Filippo Mazzelli Poggio Accaiano organizzando un concorso, un concorso che prevedeva oltre naturalmente a dei premi che abbiamo consegnato il giorno stesso per il giorno della memoria anche un viaggio a Ebensi con tutta la provincia intitolato Viaggio della memoria. Il viaggio verrà appunto totalmente sovvenzionato dal comune di Poggio Accaiano ci sarà un amministratore che accompagnerà i ragazzi, vincitori e anche un insegnante proprio della scuola media Mazzelli. Mentre ad aprile un altro viaggio riguarda la partecipazione all'incontro con il Papa per il coordinamento nazionale degli enti locali per la pace ai diritti umani perché alla pace ai diritti umani i ragazzi devono essere avvicinati ma la pace deve essere costruita ed è per questo che tutti insieme ci riecheremo naturalmente con coloro che hanno aderito a questa iniziativa a Roma all'incontro che il Papa ha organizzato per le scuole. Bene, sarebbero tante altre iniziative di cui dovremmo parlare, ne riparleremo insieme all'assessore siamo a conclusione del nostro caffè, non ci gustiamo nel frattempo il caffè, l'appuntamento è sempre con i caffè d'appoggio Accaiano. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!